La collezione che presentiamo quest'anno si chiama Plaza e l'idea nasce dal concetto di creare degli oggetti che richiamano dei luoghi, soprattutto dei luoghi di incontro, quindi la piazza è per Antonio Masi è un luogo di incontro, quindi si rifanno alle piazze più famose europee. L'idea appunto è quella di creare dei luoghi di seduta, dei tavoli attorno a cui conversare, pranzare, delle zone di relax e anche dei contenitori che nella loro sobrietà poi in realtà si aprono con degli spazi interni, con delle sorprese dal punto di vista sia volumetriche che estetiche. La collezione è composta da Concorda, che sono delle sedute imbottite, ci sono dei tavoli come questo che si chiama Marine, che è un tavolo che ha la capacità di potersi esprimere in diverse superfici con diverse dimensioni, delle madie come questa che si chiama Damm, quindi sono oggetti che suggeriscono secondo noi un'idea di eleganza che è condivisibile da tutti ma che soprattutto ha una matrice fortemente italiana. L'eleganza attraverso il dettaglio, la cura dell'esecuzione dell'opera, la scelta del materiale, secondo me sono gli elementi di riferimento della collezione. Orma è un'azienda per noi di grande interesse perché ritengo una editora, una società che è in grado di sviluppare dei prodotti che non necessariamente sono collegati tra di loro ma che hanno un loro racconto autonomo dal punto di vista formale, estetico e anche materico. Grazie a tutti.